La porta aerea americana USS Truman sarà in rada nel Golfo di Trieste a partire dalla giornata di sabato e dovrebbe trattenersi fino a mercoledì. La nave statunitense ormai da due mesi in Adriatico sta proseguendo il programma di esercitazioni mentre in Ucraina continua la guerra dopo l'invasione della Russia di Putin. La Truman non può approdare in banchina per questioni di pescaggio, solo l'area destinata alle super porta container sul lato lungo del molo settimo potrebbe eventualmente ospitarla. Oltre a ciò va considerato che si tratta comunque di un'unità alimentata a propulsione nucleare. Parte dell'equipaggio verrà comunque fatto sbarcare a Trieste grazie a delle imbarcazioni civili che garantiranno il servizio navetta. In questi casi scatta una particolare procedura di sicurezza da parte della Marina Militare Italiana che sarà impegnata con alcune unità di supporto al gigante del mare. Previsto anche un tavolo tecnico alla prefettura di Trieste che coinvolgerà il comando militare del Nord Italia, oltre agli addetti della Capitaneria di Porto e le altre specialità dello scalo. La portaerei sarà formalmente in sosta tecnica operativa dopo aver completato un ciclo di esercitazioni fra il Basso Adriatico e lo Ionio in cui le pattuglie di cacciabombardieri F-18 hanno eseguito una serie di impegnative giornate di addestramento in collaborazione con l'aviazione militare greca a poca distanza in termini di velocità d'approccio militare dallo spazio aereo del Mar Nero. Evidente, anche se non confermato da fonti militari, come questa presenza a Trieste rappresenti uno dei tasselli di quella logica di scudo di controllo e deterrenza stile guerra fredda allestito fra Europa e Mediterraneo in considerazione del conflitto russo-ucraino. La Truman fa parte di quello che viene definito un gruppo d'attacco degli Stati Uniti, in particolare il Carrier Strike Group 8 con al comando il contrammiraglio Kurt Ranshow, che oltre alla portaerei conta su altre sei unità navali e nove squadroni di velivoli. Lo Scafo è una vera e propria città galleggiante capace di ospitare 7500 soldati con 65 aerei ed elicotteri pronti a intervenire decollando da una pista di 330 metri sul mare. Le notizie, apparse anche sulla stampa italiana pochi giorni fa, documentavano le manovre della flotta di Mosca nel Mediterraneo, che dopo aver superato Creta, teneva sotto pressione le zone chiave per l'accesso al Mar Nero, come il Mar Ionio. Ecco il perché dell'importanza strategica non solo della Truman, ma pure delle altre unità navali militari attualmente dislocate in Adriatico.